Chi pratica arti marziali giapponesi avrà probabilmente sentito qualche volta il termine Mushashugyo. Letteralmente potremmo tradurlo come l'addestramento del guerriero, anche se si tratta di qualcosa di molto più complesso rispetto ai classici allenamenti a cui gli studenti erano sottoposti nelle rispettive scuole di appartenenza. Mushashugyo infatti prevede che lo shugyosha, colui che si addestra, il guerriero, inteso anche con un'accezione ascetica, visiti dojo a lui estranei in cui possa confrontarsi con praticanti di un'altra scuola. Il più delle volte il Mushashugyo prevedeva che i praticanti lasciassero il proprio feudo e si spostassero in altri, girovagando per le varie province del Giappone antico. Ma la cosa era molto più complessa di quello che si possa pensare. Nonostante non si abbia la certezza di quando la pratica del Mushashugyo sia nata, molti storici delle arti marziali sono concordi nell'affermare che ciò sia accaduto durante il periodo Sengoku, l'epoca degli stati belligeranti che va dal 1467 al 1615. Questo arco di tempo lungo circa un secolo e mezzo è infatti famoso sia per i continui conflitti tra i signori feudali, sia perché durante esso furono attivi alcuni dei più grandi guerrieri della storia giapponese, alcuni dei quali fondarono delle arti marziali sopravvissute fino ad oggi. In un simile contesto, padroneggiare l'arte della spada non solo poteva significare la differenza tra la vita e la morte, ma anche l'opportunità di un lavoro estremamente remunerativo, dal momento che i grandi signori della guerra erano disposti a spendere ingenti quantità di denaro per ingaggiare i migliori maestri d'arme, molto spesso dei busci che avevano abbandonato il loro feudo d'origine per cercare fortuna altrove. Questo tipo di pellegrinaggio marziale di epoca Sengoku viene spesso indicato con il termine Heio Shugyo, addestramento alla strategia. Gli Shugyosha, anche favoriti dalla nascita di un sistema stradale e di stazioni di posta fino ad allora non troppo sviluppate, si spostavano da un paese all'altro sia alla ricerca di altri guerrieri da sfidare, sia per semplici scambi tecnici. Non è un caso che questo tipo di incontri portasse spesso alla codificazione di nuove scuole di arti marziali. Nel periodo Edo, tuttavia, la situazione cambiò in maniera abbastanza drastica. La pacificazione del paese aveva portato molti appartenenti alla classe dei busci ad abbandonare la pratica marziale. Dall'altro lato furono le stesse scuole di arti marziali che vietarono la pratica del Tario-GI, i famosi combattimenti tra scuole diverse. La priorità del governo Tokugawa era infatti quella di mantenere l'ordine della società a qualsiasi costo e dunque vedeva anche nei combattimenti interstile una minaccia all'armonia del paese. Il timore era quello che un combattimento tra due praticanti provenienti da scuole diverse potesse tramutarsi velocemente in uno scontro aperto tra le scuole stesse, coinvolgendo centinaia di studenti e mettendo in subbuglio un'intera zona. Per più di due secoli, dal 1615 al 1830, la pratica del musciasciuglio venne quasi dimenticata, solo per riapparire con grande impeto verso la fine del periodo Edo. Negli anni che vanno dal 1830 al 1868, dunque fino al termine del Bakumatsu e quindi del periodo feudale giapponese, ci fu una grandissima rinascita sia delle scuole di arti marziali che del musciasciuglio. Ciò non avvenne per puro caso. Il Giappone iniziava a sentire sempre di più la pressione delle potenze straniere che chiedevano ai Tokugawa di aprire il paese al commercio. Dobbiamo ricordare infatti che durante tutto il periodo Edo il paese del sollevante adottò la politica del Sakoku, del paese chiuso, per evitare di diventare anch'esso una delle tante colonie dei paesi occidentali in Asia. La posizione geografica molto isolata rispetto al resto del mondo e la presenza di una classe guerriera professionista aveva fatto desistere i vari imperi europei dall'ingaggiare economicamente o militarmente il Giappone. A metà del XIX secolo, tuttavia, il divario tecnologico era così ampio che se il Giappone fosse stato invaso, con molta probabilità sarebbe caduto in mano straniera tempo. Consci di questo pericolo, sia il governo centrale che i vari feudi si impegnarono nella promozione delle arti marziali, sia di armi bianche che da fuoco, con centinaia di dojo che nacquero in tutta la nazione. È inoltre opportuno ricordare che molte scuole aprirono le porte anche ad altre classi sociali, come quella dei mercanti e dei contadini. Nel corso della storia giapponese, la pratica delle arti marziali era sempre stata pannaggio della classe dei bushi, sin dalla loro nascita. Per intraprendere il pellegrinaggio marziale, un praticante doveva fare esplicita richiesta al feudo di appartenenza, il quale doveva concedergli una sorta di passaporto che gli consentisse di rilasciare il paese in maniera legale. A coloro i quali il lascia passare non veniva concesso, qualora non volessero abbandonare l'idea del musciasciuglio, non rimaneva altra via che quella del Dappan, letteralmente abbandonare il proprio feudo. Si trattava di qualcosa di molto rischioso, dal momento che ciò avrebbe potuto comportare un esilio permanente dallo stesso, e quindi la perdita di un posto dove tornare. Ciò nonostante, il desiderio di confrontarsi con esperti di altre scuole in modo da migliorare il proprio livello tecnico era più forte della paura di perdere la propria posizione sociale. È inoltre opportuno ricordare che all'epoca gli scontri tra le scuole, soprattutto di scherma, erano favoriti della presenza delle protezioni che vengono tutt'oggi utilizzate nel kendo, mentre per i dojo di jujutsu si iniziavano a vedere dei tatami, le stuoie di paglia che attutivano cadute e consentivano la lotta a terra con maggiore sicurezza. Ad oggi ci sono pervenuti due documenti che ci forniscono una chiara idea di quello che fosse il musciasciuglio verso la fine del periodo Edo. Il primo è il Bujutsu Eimei Roku, letteralmente lista di eccellenti artisti marziali, compilato nel 1860 da due samurai di nome Arai Tomosada e Sanada Hannosuke. Si tratta di un vero e proprio elenco in cui sono riportati i nomi, la scuola di appartenenza e il villaggio di residenza di 633 spadaccini della zona del Kanto. Una vera e propria guida per chi volesse intraprendere il musciasciuglio e testare le proprie abilità contro quelli che erano considerati i migliori schermidori di allora. All'interno di esso si possono trovare i nomi di alcuni dei più famosi samurai del periodo Bakumatsu, che da lì a qualche anno avrebbero cambiato profondamente il corso della storia giapponese. Il secondo testo che a mio avviso è opportuno ricordare è lo Shokoku Kaereki Nichiroku, che potremmo tradurre all'incirca come diario di pellegrinaggio in vari paesi. L'autore, un samurai del feudo di Saga di nome Muta Bunosuke, riportò in esso le sue esperienze di combattimento contro altre scuole, avvenute tra il 1853 e il 1855 in tutto il Giappone. Bunosuke aveva all'epoca 23 anni ed aveva ottenuto il Menkyo Kaiden, il più alto livello di apprendimento conferibile nelle arti marziali tradizionali, nella Nito Tetsujin Ryu, una scuola di schema che prevedeva il combattimento con due spade, una più lunga e l'altra più corta. Nel 1853 ottenne dal proprio feudo il permesso di lasciare Saga, nel Kyushu, e di dirigersi verso nord per confrontarsi con i migliori spadaccini dell'epoca. Il suo diario inizia così. Nell'agosto del 1853 ho ricevuto quest'ordine dal mio signore, di viaggiare ad Edo e nella zona del Canto per testare la mia abilità con la spada. Ho dunque deciso che annoterò ogni giorno di pratica in questo diario. Il diario di Bunosuke è estremamente importante perché ci dà un'idea molto chiara di quelli che erano gli scontri tra praticanti di scuole diverse all'epoca. Ovviamente quanto descritto nel libro è abbastanza diverso da quanto il cinema e l'animazione giapponese ci hanno portato a credere. Leggiamone qualche passo. Dojo Meirinkan nel feudo di Chosho, 17 e 18 ottobre 1853. Tutti gli studenti praticano con grande fervore, ma è pieno di bambini. Nessuno di loro è particolarmente abile. La loro spada di bambù è piuttosto lunga. Dojo del feudo di Yamamatsu, 29 novembre. Ho combattuto contro tutti gli studenti presenti. Erano sorpresi di vedermi utilizzare due spade. Renpeikan, dojo del maestro Saito Yakuro, 26 e 27 gennaio 1854. Ho prima combattuto contro il terzo figlio del maestro ed altri allievi, tutti molto bravi. Poi mi sono confrontato con Shintaro, il primo figlio del maestro. Il suo livello era eccezionale. Dojo Otani, 25 marzo. Nessuno particolarmente eccellente, ma ho combattuto contro il maestro Otani Seichiro. Ne sono rimasto impressionato. Dojo Naganuma, primo aprile. Durante il combattimento abbiamo litigato, quindi la pratica si è interrotta. Dojo Iba, 24 febbraio 1855. Ho combattuto contro quelli considerati come i migliori 16 studenti della scuola. Solo due o tre bravi, ma comunque non esperti. La mia superiorità era netta. Leggendo il diario ci sono due elementi che saltano subito all'occhio. Bunosuke venne accolto in maniera molto ospitale in quasi tutti i dojo. Molto spesso gli studenti contro cui aveva combattuto gli chiedevano di fermarsi qualche altro giorno, in vito che puntualmente si vedeva costretto a declinare. Dobbiamo infatti ricordare che chi intraprendeva un muscesciuglio per conto del proprio feudo era una sorta di studente all'estero con una borsa di studio, i cui fondi erano limitati per un determinato periodo di viaggio e non oltre. Il secondo elemento è quello dell'ego di Bunosuke, il quale senza molti giri di parole mette per iscritto quanto si senta tecnicamente superiore a praticamente quasi tutti gli spadaccini contro cui combatte. Questo ovviamente stona con l'immagine del samurai umile, ma la realtà dell'epoca era ben diversa da quella odierna. Essere sicuri di si stessi era un requisito necessario per far sì che il proprio nome venisse conosciuto negli ambienti giusti, specialmente in un periodo dove la fama si costruiva con il passaparola. Inoltre è opportuno ricordare che Bunosuke era un ragazzo di 23 anni che cercava di mettersi in buona luce con il suo signore. Non sappiamo se riuscì nell'impresa, dal momento che non ci sono prove, della sua promozione a maestro d'arme presso il feudo di Saga, in carico che verosimilmente veniva offerto agli artisti marziali che si erano messi alla prova nel Mushashuyo per diversi anni. Oggigiorno il Mushashuyo è molto ridimensionato rispetto al passato e quasi sempre avviene tra praticanti della stessa arte marziale. Nel Kendo, nel Judo, nel Karate o in qualsiasi altra disciplina marziale moderna che preveda una pratica libera è abbastanza comune, soprattutto a livello scolastico. Nelle arti marziali tradizionali i concetti di Mushashuyo e Taryuji Ai sono praticamente banditi e le scuole che ancora lo permettono si possono contare sulle dita di una mano. Per quelle poche in cui ancora è concesso è necessaria l'approvazione del proprio maestro, altrimenti si rischia di essere espulsi dalla scuola stessa. In un panorama dove l'interesse si sposta sempre di più verso arti marziali che fanno dell'agonismo il loro punto forte, o comunque dove la pratica libera rappresenta una parte sostanziale dell'allenamento, questa sorta di chiusura al confronto con l'esterno è uno di quei fattori che contribuiscono al progressivo allontanamento delle persone dalle arti marziali tradizionali, sempre più viste come un cimelio del passato che ormai non trova applicazione nel mondo moderno. Grazie per aver guardato il video e alla prossima!